Ciao, sono Giulio Vesprini, vengo dalle Marche, da Civitanova Marche, sono qui al Museo della Scienza e Tecnologia Leonardo Da Vinci per partecipare al progetto Puzzle for Peace, grazie all'invito dell'Art Director Giuseppe Giavicoli. Per me comunque è un piacere essere qui, respirare un ambiente, fiancheggiare, lavorare insieme ad artisti conosciuti nel campo della street art e quindi per me è importante esserci. La mia opera rappresenta un po' quello che riesco a fare in questi ultimi anni, loro sono i Tunnels, sono dei miei personaggi, sono pronti a difendere il mondo dall'attacco alieno del 2012, secondo alcuni esperti finirà il mondo e quindi noi siamo pronti in una chiave ironica anche a difendere il nostro pianeta. Lavoro con il bianco e il nero, mi occupo di grafica, nella fattispecie interpreto la nuova corrente della street art, vivo il lavoro tra Civitanova e Milano, continuo a collaborare con altre situazioni qui in zona.